Secondo me ci sta da dire Ah devo andare? No Devo andare adesso? Quando vuoi? Yo elemento Bella raga non direte mi Io sono troppo morto Yo bella raga Siamo qui sul set del prossimo video che esce Video ufficiale Flydown Flydown uscirà l'8 febbraio Yo L'8 febbraio Bella raga Ciao